Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una giovanissima cantautrice, MDC. Allora, a questo punto la prima domanda è già spontanea. Se ti devi riscrivere, come ti descriveresti? Soprattutto perché è MDC, ma probabilmente corrisponde al tuo nome. Allora, intanto ciao a tutti gli ascoltatori della radio e grazie per l'invito. Il mio nome è MDC perché è un'abbreviazione del mio nome e del mio cognome, quindi Martina De Carne. Ho 14 anni, sono pugliese e le mie due passioni, sin da quando sono piccola, sono cantare e ballare. Ad oggi frequento la mia scuola di danza, che per me è come una seconda casa perché ci sono tanti bei ricordi e delle belle persone che mi legano a quel posto, oltre alla mia passione ovviamente, ma ho scelto di proseguire principalmente verso un'altra strada, ovvero quella del canto. E chissà però se un giorno queste due arti si incontreranno, si uniranno e benvenga, perché non potrei chiedere nient'altro di meglio dalla vita. E a questo punto parliamo intanto del, quest'ultimo, il disco che è presentato. Da cosa attrae ispirazione? Ok, allora, questa canzone, Fotomossa, uscita il 28 novembre, parla di un amore che ancora si riesce ad intravedere e si vive, in questa canzone si vive nel ricordo di una persona con cui hai trascorso momenti indimenticabili e tutti abbiamo questi momenti che non dimentichiamo mai. E vorrei fare un discorso più ampio, ovvero che l'ispirazione nasce nel momento in cui abbiamo il bisogno di scrivere, di dire qualcosa. E noi musicisti lo facciamo attraverso cantautori, lo facciamo attraverso la musica. E quindi questa canzone, anticipo un po' la domanda, questa canzone la dedico a me e al coraggio che ho avuto di cercare le parole giuste per raccontare un sentimento che ho covato dentro me, ho maturato e che mi ha portato a trovarle queste parole giuste per descrivere una storia che sì è la mia ma può diventare di chiunque ci si ritrovi nelle mie parole, nel testo, nella canzone e quindi può diventare di chiunque voglia cucirsela addosso. Questo brano è già il terzo singolo che presenti, tra cui ci sono altri due brani che poi uno è uscito da poco comunque anche. Sì, Fotomossa è il mio secondo inedito, il mio primo singolo fu Prendimi per mano e su Spotify uscì ad aprile di un anno fa una cover che ho fatto. E invece la copertina, la copertina del brano rispecchia un pochettino il senso logico di tutta la canzone per la fine. E beh sì, era questo il mio obiettivo. E a chi è venuta in mente questa copertina? Diciamo che io ho le mie idee, poi mia madre è sempre quella che mi aiuta, con lei che cerca di darmi dei consigli, quindi ho sempre lei al mio fianco. Immaginiamo che ti viene in mente le canzoni utilizzando la tastiera che hai dietro, oppure provisci a scriverle senza utilizzare lo strumento e poi piano piano introdurla. A volte succede che ho bisogno del piano, mentre altre volte nascono prima le parole e poi la musica è un passo successivo. Rieci a essere un po' più longeva nelle parole oppure un po' come nell'inglese dove il sintetico è di moda, cioè utilizzato più frequente da lei? Penso di essere chiara nelle mie canzoni, quindi il messaggio credo che arrivi e questo è uno dei miei obiettivi essendo una cantautrice. E invece qual è la prima emozione che hai provato? Un momento in cui hai registrato il primo singolo, davanti avevi gente che ti ascoltava e vedevi più che ascoltare le loro parole, hai visto i loro sguardi che si sono accesi e ti hanno poi parlato. Sì, la prima volta che ho cantato il mio primo singolo, perché il secondo non ho ancora avuto l'opportunità di cantarlo in live, ma presto arriverà anche quella, il mio primo singolo l'ho cantato proprio nel mio paese ed è stato emozionante perché sembra tutto surreale e quindi la prima emozione è stata veramente forte. E poi quando sei scesa sotto la gente che ti ha guardato, ti ha detto, oppure soprattutto, ti hai detto, quale sensazione hai provato vedendo le loro reazioni? Vedendo le loro reazioni non dico che mi sento realizzata, perché assolutamente non lo sono, anzi il mio sogno è quello di autorealizzarmi, sono ancora giovane quindi ho tutta una vita davanti. Vedere le loro reazioni, i loro sguardi, i loro sorrisi mi fa, mi dà conforto, mi fa capire che quello che faccio in qualche modo piace alla gente. E a questo punto, la cosa più semplice, sogni futuri, oltre che appunto in miscolare, miscelare, mai va di moda la canzone con la danza, quali sono altri sogni nel cassetto? Allora, ovviamente il mio sogno è quello di diventare una cantante e niente, di sentirmi semplicemente autorealizzata, perché è tutto quello che sogno da una vita, quindi vedere un sogno che si realizza è importante. Perfetto, allora noi ci diamo appuntamento per i prossimi brani, soprattutto per la riuscita di un disco completo con tanti brani, poi sicuramente piano piano usciranno, quindi alla fine si riuscirà a fare un disco. A questo punto ci mancano due cose fondamentali, dove poterti raggiungere per poterti ascoltare e vederti e i saluti finali? Certo, allora per non perdere nessuna delle mie novità che arriveranno a breve, vi consiglio di seguirmi, potete seguirmi sul mio profilo Instagram come Martina De Carne, sul mio profilo TikTok, Spotify e poco fa ho aperto anche un canale YouTube e niente, è stato davvero bello essere qui a parlare per la prima volta del mio brano e ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio ancora una volta te per l'invito. Grazie a tutti!